L'uso delle lampade abbronzanti può provocare tumori alla pelle. È l'allarme lanciato dai dermatologi in occasione della prima edizione italiana Melanoma Day, la giornata dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori della pelle. Anche a Bari, come nelle altre principali città italiane, i dermatologi incontreranno i cittadini per fornire informazioni sul melanoma e il tumore maligno della pelle in continuo aumento fra la popolazione. I medici offriranno visite gratuite nella clinica dermatologica universitaria del Policlinico di Bari. I recenti studi effettuati dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro hanno messo in luce i rischi legati ad un errato uso dei lettini solari. Secondo gli esperti, infatti, l'abuso di lampade abbronzanti prima dei 35 anni aumenta del 75% il rischio di sviluppare il melanoma. Un'attenta esposizione ai raggi solari può ridurre i pericoli. Gli esperti raccomandano l'uso di filtri protettivi per gli appassionati della tintarella. La diagnosi precoce può ridurre sensibilmente la pericolosità del melanoma. I fattori di rischio possono essere genetici e dunque difficilmente eliminabili, ma possono essere legati anche alla pelle chiare e alla presenza sulla cute di numerosi nei. I controlli periodici permettono di scoprire la malattia nelle prime fasi, garantendo così un'elevata possibilità di guarigione.